La spesa sanitaria rappresenta con 3 miliardi 429 milioni di euro, oltre la metà della finanziaria regionale da 7,8 miliardi di euro. Per illustrare i conti del sistema sanitario regionale, stamattina la Commissione Sanità del Consiglio regionale ha udito l'assessore Luigi Arru, che ha rilevato come il sistema sanitario sardo costerà nel 2018 127 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente, questo al netto degli stanziamenti per la copertura del disavanzo. 3 miliardi e 36 milioni di euro rappresentano la quota indistinta ha rilevato l'assessore Arru e serviranno a garantire i livelli essenziali di assistenza, 200 milioni andranno invece a coprire il capitolo per il ripiano dei disavanzi pregressi, mentre 134 milioni serviranno per gli investimenti. Inoltre ha precisato l'assessore sono previsti 28,5 milioni di euro al finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio, 118 milioni di risoccorso, sanità penitenziaria, 16,5 milioni per gli extra LEA, vaccini Bluetong, vigilanza delle guardie mediche e spese per i viaggi degli ammalati e quasi 13 milioni per ulteriori spese, borse di specializzazione. L'attuale modello dei presidi determina costi aggiuntivi per 126 milioni di euro, ha sottolineato l'esponente raggiunta a Pigliaru. La riforma della rete ospedaliera avrà bisogno di almeno tre anni per entrare al regime. Per il 2017 il disavanzo sarà pari a 238 milioni, la metà del quale è già ripianato con l'ultimo assestamento di bilancio da 114 milioni di euro. 277 milioni di euro invece saranno destinati al sociale, soldi che serviranno, ha precisato l'assessore, per pagare i programmi di contrasto della povertà, la non autosufficienza, i servizi alla persona, le politiche per la famiglia. Su questo punto in maggioranza si è determinato uno strapo col consigliere di articolo 1 MDP Luca Pizzuto che ha annunciato il suo voto contrario alla manovra. La Commissione poi ha approvato con l'astensione della minoranza 150 milioni di euro per il bienio 2018-2019 per la messa a norma antincendio dei presidi sanitari. È stato dato il via libera anche col solo voto della maggioranza, anche ai contributi per il funzionamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza.